Un fiume colorato segue la croce che solca i prati e i boschi dell'Altopiano per rinnovare ancora una volta il patto fra l'uomo e Dio, per chiedere buon tempo per i raccolti, per ringraziare degli scampati pericoli. È la grande rogazione di Asiago, che dopo due anni di silenzio a causa del Covid torna a far fiorire il mare d'erba e le selve altopianesi di voci, canti e preghiere. Due anni caratterizzati dalla pandemia e oggi finalmente torniamo con questa nostra tradizione guidati dalla nostra bandiera, rinnovando quel percorso di fede e di speranza che unisce le tradizioni, i saperi della nostra terra. Ricordiamo ovviamente anche in questa pandemia abbiamo perso tanti amici, tanti compagni di questo viaggio, vogliamo ricordarli anche oggi in questo cammino che è la nostra storia. Non solo asiaghesi residenti nei comuni dell'Altopiano partecipano all'erogazione dove arrivano fedeli da ogni parte del mondo. Antonio, Andrea e gli amici di Padova, fanatici di erogazione. Un evento importantissimo. Un evento importantissimo e a questo seguirà la processione di Sant'Antonio in presenza. Certo, per chi vive in Altopiano la grande erogazione ha un altro sapore, al profumo di casa, di tradizione. Oggi, già dopo i primi passi, rilassati, chiacchierare con persone che non si vedevano da molto tempo, persone che arrivano dalla Germania, dall'America, mi hanno appena detto, ed è una cosa molto molto piacevole. Bello stare in comunità. Un evento che affonda le proprie radici nello scuro passato e che ora è una luce per tutto l'Altopiano. Un evento importantissimo per la gente di Asiaro, che si tramanda di generazione in generazione. Non sappiamo neanche da quando si è iniziato, probabilmente già nel terzo, quarto secolo, e poi è stato continuato come voto dopo la pestilenza del 1631. Un collegamento con l'attualità, con i corsi e i ricorsi della storia, dato che gli uomini sembrano non imparare mai dai propri errori. È stata fatta per ringraziare la Madonna per aver liberato dalla pestilenza l'Asiago. Adesso abbiamo pregato per il Covid e per la guerra in Ucraina. Perché quello che abbiamo provato noi, come profughi nel 16, smettano di provarlo i profughi ucraini e tornino a loro case. E c'è pure il tempo per una pausa, con le succose ciliegie della Pedemontana portate dagli amici che non partecipano all'arrogazione. La pausa ciliegie durante l'arrogazione è proprio il massimo, un'arrogazione top dopo il Covid 2022. Che senso ha appunto oggi un evento come questo religioso, spirituale e culturale? Beh, è un bellissimo evento, è bene che si ripeta negli anni e avanti così. Avanti così quindi all'anno prossimo per insaldare ancora e ancora quel patto con la divinità, la natura, il cielo dell'altopiano e tutto quello che vive e prospera al di sotto di esso.